Oh mamma mia! Mulo! Eh no no non è vero non c'è un mulo. Ah sì no! Dov'è il maiale? Dov'è il maiale? Io so che tu sai dov'è il maiale! Lo sai! Io so che tu sai dov'è il maiale! Lo so! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Sto svenendo! Dimmi dov'è il maiale! Dimmi dov'è il maiale! Oh no! Bravo! Cosa? Che hai detto? Alla torre dei pillager! Oh no! Tutte schifose di... Ho dei vicini di casa stupidi! Come esco da qui? Mamma mia! Mamma mia! Ah! Mamma mia! Di soldi ho solo questo qui! Ho solo un lingotto d'oro! Non ti preoccupare asino! Ritornerò! Brutti! Schifosi dei vicini di casa! Che mi rubano tutto! È vero io non sono mai stato... Oh mamma mia! Io non sono mai stato tanto ricco! Però avevo magari due dobloni d'oro! Che se no! Di soldi ho spolvere! Soltanto polvere! Oh mamma mia! È dodici di polvere! Per adesso! Adesso avrò vendetta! Adesso avrò vendetta! Stupidi pillager! Prima li brucio la base! E poi scappo col mio maiale! Poi tra qui! Ma sono nemici! Si saranno alleati! Cosa c'è lì dentro? Smeraldo? Sembra Smeraldo! Adesso ti vengo a salvare! Vado a bruciargli la base! Ok! Ok! Vado a bruciargli la base! È tanto tempo che cerco di fare sto piano! Adesso mi sto riuscendo! Ah! Mi sono bruciato! Che sono bravissimo io! Ah! Brucia! Brucia! Bruciare tutto! Ah! 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 Ok! No no! Devo bruciare tutto sto posto! Oh no! Come salgo! Tutto devo... Ah! Cosa c'è qui dentro? Cos'è? Ah! Ah! Devo bruciare di più! Aspetta! Però... Adesso come scendo? Oh no! Oh no! Non so più come scendere! Ah! Oh! Che cacchio! Ma è profondissima sta cosa! Oh mio Dio! Ah! 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 Mamma mia! Ma dove? Dove sono? No! La mia... Ah! 70... Ah! Ma chi sei tu? Ti sento? Ti sento? Sì, vabbè... Io sono Franciotto, ok? E non so dove sono! Oh! Oh mamma mia! Franciotto? Oh mamma mia! Sì, Franciotto sono! Franciotto? Sì, sì! E io sono Luigi! Lui? Il fratello di Mario? Sì! Oh mio Dio! Ma dove sono andato a finire? Ma no! Sono andato in una festa di carnevale! Però sbaglio! Non lo so! Io sono uscito da qui! Io mi ricordo che sono uscito! Sono... Stavo andando a liberare il mio maiale! Allora, no, no! Il maiale! Aiuto! Quello non è solo lui! Il no, si non è rimasto a casa! No, no! Non gli ho detto che sarei tornato con il mio maiale! Ora prende fuoco! Aiuto! Allora, torre dei pillaggi e dei miei vicini di casa Maligny! L'ho preso a fuoco! E poi mi sono buttato in un tubo verde! Aiuto! Aiuto! Calmati! Ok! Squirti, squirti! Aia! Allora! Ah! No, sventila! Allora, allora, allora! Fammi capire! Tu sei quindi... Lui? Vero? Sì! Il vero! Aspetta, posso tirarti i baffi per vedere se sono attaccati? Che schifo! Peli! Ma quindi dove sono? No, no, veramente dove sono andato a finire? Sono in una dimensione di carnevale! No, siamo nel... Sai nel mondo di... Nel castello dei funghi? Il che? Il regno dei funghi! Il regno... Oh mio Dio, dove sono andato a finire? Sono con un deficiente! Ciao! Ma dove? Dove? Non mi lasciare qui! Ma il pane è tuo! Oh che? Cacchio! Eh sì! C'è scritto Super Mario! Il mio fratello! Però non... Ti volevo dire ma il pane è tuo! Ma dove sei? Sì! Il pane è mio! E in questa casa è di chi è? Il mio! Ah! Oh! Ecco! È quello il tubo che mi ha portato in questo posto strano! Com'è quello? Ma... 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 Ma che... È quello! No, questo è per te! Ahia! Aspetta, aspetta, aspetta il tubo! Ma ci muoio? No! No, aspetta... Ma dove... Come siamo? Ehi! Cos'è? Ah! Ciao! Ma quello è Mario! Ah! Sì ma è un assato perché non troviamo più Mario! Come non trovate più Mario? Eh sì! Ma magari lo state cercando? Sì dappertutto! Ah! Non l'avete proprio trovato? No! Non lo troviamo! Oh mamma mia! Quindi quella era vostra casa? Casa vostra? Ma non lo troviamo! Ma c'è un modo per io tornare nella mia dimensione di Minecraft normale? Eh? No! Conosci Minecraft magari? No! Come no? Come no? Io sono Minecraft! Io sono fatto come Minecraft! Nel mondo di Minecraft! Ok! Voglio tornare! Ma? Quindi? Perché c'è questa statua di Mario? L'hanno fatta perché Mario è morto! Oh no! Questo! Non lo troviamo più! Aiuto! Ma questa è stata fatta quando Mario era ancora qui! Vedi giusto? Sì! Ok allora! Ma ci ricorda lui! Ahia! Ahia! Allora! Io non c'entro niente! Allora! Facciamo così! Facciamo così! Facciamo! Aspetta! No! Parlo prima io! Ah va bene! Facciamo così! Se tu ci aiuterai a trovare Mario ti darò questa! Questa? Sì! No 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 no! Se io vi aiuto a cercare Mario! Voi trovate il modo per farmi tornare nella mia dimensione! Ok! Intanto prendi questa c... Combatteremo un bel po'! Perché? Perché? Aspetta! No è notte! Stando per arrivare i mostri! No? Mostri! I mostri! Bowser ci fa attaccare di notte! E questo cosa ha? Dove stiamo andando? Aiuto! Tu seguimi! Ma... Ok! Dove stiamo andando? Vieni! Seguimi sempre! Ma dove siamo? Oh no! Aiuto! Devi stare attento! Ok! Ma dove voglio andare? È al castello di Peach! Ma ci sia stata di tutti! Ma che cos'è? Oh mamma mia! Ma dove stiamo andando? Dai! Piove pure! Ma che cos'è? Questa chi è? Peach! Peach? Sì! La principessa? Sì! Ah! Eh! 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 Che c'è? Eh! Ah! Bravo! Siamo vicini al castello! Eh... Dovremo essere vicini! No! Non ti sei avvenuto nel tuo castello! Attento! Oh! Mi sa che l'ho trovato! È questo? Oh! Sì! Ok! Perché sono... Tubo! No! Non voglio cadere il tubo! Perché è il tubo! No! Non voglio caderci dal tubo! Ehi! Che cosa ti fai tu qua? Mmm! Mia! Posso prendere una torcia? No! Ok! Ok! Ciao! Ce ne sono? Ok! Va bene! Senta! Non ce ne sono! Ehi! Ce ne sono! Ehi! Non ce lì anche qui nessuno! Ah! Non ce ne sono! Forse è qui? Ehi! C'è qualcuno? Mmm! Eh! Peach! Qui! Oh! Qui! Chi c'è? È successo qualcosa! Ma è sempre stato così? No! Oh no! No! No 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 no! Cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa! Non lo so! Io mi sto confondendo! Io penso ancora al mio Mario! Chi è che dice Mario? Peach! Peach! Dove sei? Qua sopra! Qua sopra? Qua sopra! Oh! È qui! È qui! Oh no! Forse è qui! Ma la cosa brutta è che Mario manco c'è! Mario neanche c'è! Che? Che? Dove sei? Dove sei?